Questa amministrazione ha fatto un mando per quanto riguarda gli ambulanti per il mercato rionale della Tonnara di Palme, qual è l'invito che vogliamo lanciare attraverso la nostra... Sì, è tuttora aperto l'avviso sul sito del comune, lo potrete trovare, l'idea è quella di valorizzare anche fuori stagione uno dei punti più belli e caratteristici della nostra città che è la Tonnara di Palme. Quindi abbiamo istituito e realizzato un mercato lì proprio alla Tonnara, c'è l'avviso, quindi gli ambulanti e i venditori potranno fare la richiesta con l'apposito modello che potranno trovare sul sito e così faremo rivivere anche d'inverno in periodi meno fortunati per dei luoghi quasi esclusivamente estivi, uno, un luogo davvero che merita tutta la nostra attenzione e ogni sforzo così come stiamo facendo, anche perché di qui a breve, se tutto vuole, partiranno anche i lavori per adeguare sotto il punto di vista del distesso geologico e non solo la nostra straordinaria costa.